Genitori chiacchieroni generano figli a loro volta chiacchieroni. E voi mi direte, certo, è ovvio, è una scoperta piuttosto banale. Se non che, in questi giorni è stato pubblicato uno studio condotto sui gabbiani. E la cosa interessante è che questo essere chiacchieroni riguarda sia gli adulti, sia i piccoli ancora dentro l'uovo. Genitori con buone doti comunicative, infatti, sembrano essere più bravi a gestire il tempo con i piccoli, a dargli da mangiare, a organizzarsi per le covate. Per contro, i piccoli più chiacchieroni sono quelli più bravi a chiedere il cibo ai genitori e a fare in modo che le risorse vengano distribuite equamente tra grandi e piccoli. Quindi, insomma, si tratta di un vantaggio comune che riguarda tutta la famiglia. Ma questo apprendimento deriva, appunto, dal fatto che i piccoli riescono a sentire quanto chiacchieroni sono i loro genitori da dentro l'uovo. Ed è questo un campo di studi che si sta sviluppando tanto in questi ultimi anni, proprio per il fatto che, a quanto pare, le comunicazioni, i suoni che il pulcino riesce a percepire da dentro l'uovo sono fondamentali per il suo sviluppo successivo. Quindi, insomma, un mondo ancora da esplorare e da scoprire nel dettaglio che è veramente affascinante. Grazie.